good morning my friend oggi vi presento altri tre artisti arrivati in questi giorni questo è lucio pintaldi questo penso che sia il mio da fare qui viene fuori un capolavoro perché mi lascia spazio e buon lucio va bene mettiamolo la la qualità del video non sarà ottima perché c'è una pessima luce oggi comunque ecco qua è lucio andiamo a prendere il lucio personale pintaldi eccolo qua facciamo una panoramica veloce e particolare e poi lo vediamo per intero ecco qua andiamo a metterlo qui ecco qua questo è il personale di lucio emanuela terragnoli la carissima amica pittrice di verona che ha portato a mano i quadri qui abbiamo questo penso sì questo è quello che dovrò fare io che casomai mi smentisca andiamo a vederlo dei colori vivaci andiamo a vederlo nel suo insieme eccolo qua perfetto sempre di emanuela abbiamo questo che sta ancora asciugando perché fresco una bella fantasia sul giallo e verde eccolo qua guarda fai bravo non sta a far arrabbiare ma andiamo a vederlo nel suo insieme perfetto andiamo a vedere ottimo e poi infine c'è claudio meli claudio meli a roma che fa delle cose incredibili con i pezzetti di legno roba un riciclo però intelligente il suo fatto poi lavora anche lui legno stesso questa è una bellissima nave come vedete la lampada fa da sole comunque stupendo lavoro questo è il suo personale andiamo a vederlo anche questo per intero bellissima è questa un po la luce ma anche bella e poi quello che deve fare quello che io devo fare con lui che praticamente yellow summer la famosa canzone di beatless fantastico so già cosa fare non metterò molto perché buon claudio cosa devo fare io qui mi ha fatto un quadro con tutte le bollicine che va su è un spettacolo guarda penso di fare un lavoro qui molto un minuto eh claudio poi andrò fin qua sopra questa faccia il resto non tocco niente va bene così lasciamo il sottomarino al suo destino adesso andiamo a vederlo per intero ecco qua adesso per concludere questi sono quelli ancora da fare amalgordata barani la barbara crai iano dopo che c'è alla valentina benaberioni andrea marazzi questi sono fatti o personali allora siamo arrivati come artisti che hanno dichiarato aver spedito ce ne sono ancora due tre 46 più o tre nuovi che ho chiesto di partecipare due del mario selloni uno carissimo amico ivan che è regato che ha partecipato l'altra volta poi qualcuno di quelli che sono una decina mi consegneranno entro ottobre poi chiudiamo qui good morning my friend